Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi dell'ITS Most Academy di Ortona per il biennio 2023-2025. L'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile nei giorni scorsi ha aperto le sue porte per presentare i corsi attivi per la formazione di esperti nei settori del trasporto e della logistica intermodale, del trasporto ferroviario e dei sistemi informatici per le aziende e le pubbliche amministrazioni, come spiegato al Tg8 dalla direttrice Emanuela Di Luca. L'Academy per la Mobilità Sostenibile apre le porte ai neostudenti per una giornata di orientamento e di informazione sui percorsi tecnico-specialistici che quest'anno attiverà. Sono ben tra i percorsi a diploma europeo che rilascerà l'ITS relativamente al trasporto e la logistica di merce e persone e sistemi tecnologici per le aziende, sistemi di gestione ferroviaria e di condotta ferroviaria. Per ciascun corso formativo saranno selezionati solo 25 allievi per corsi biennali da 1800 ore, di cui almeno 650 per tirocini aziendali o apprendistato. I nostri percorsi sono rivolti a giovani neodiplomati o neolaureati che intendono specializzarsi e professionalizzarsi per delle competenze idonee all'immondo del lavoro. I percorsi formativi prevedono una formazione altamente specialistica realizzata in collaborazioni con aziende di trasporto e logistica, merce e persone, operatori del settore specialistici per delle figure che siano in grado di coordinare la supply chain della logistica sia industriale che nella media e grande distribuzione, sia di merci che nei sistemi di smart city e mobility del trasporto pubblico locale. I nostri percorsi sono studiati e strutturati con diversi atenei d'Italia, l'Università dell'Aquila, l'Università della Sapienza, l'Università di Macerata e molte altre anche europee, affinché i percorsi abbiano contenuti tecnici o scientifici in grado di riconoscere dei crediti formativi agli allievi che poi da completamento del nostro percorso volessero laurearsi. Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate fino all'8 ottobre. I nostri corsi sono gratuiti perché il sistema ITS Academy afferisce un sistema nazionale riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione e soprattutto dalla Regione Abruzzo che cofinanzia i progetti formativi del nostro istituto attraverso il Fondo Sociale Europeo. I nostri percorsi consentono un'alternanza continua con il mondo del lavoro e sono erogati direttamente da esperti del mondo del lavoro per circa l'80% delle ore formative. All'interno del nostro percorso alle ore di aula e laboratoriali, quindi di implementazioni tecnologiche, si alternano le ore di tirocinio presso aziende regionali e nazionali di trasporto e logistica, merci e persone. Il nostro livello occupazionale è vicino al 90% ai 12 mesi dell'attività di diploma.